Se sei un prescelto, non rivelare mai questi otto segreti a nessuno. In un mondo dove le voci non cessano mai, il silenzio è il tuo scudo più potente. Immagina di portare segreti così profondi e potenti che, se rivelati, potrebbero alterare il corso del tuo viaggio e quello di chi ti circonda. I prescelti, cioè coloro scelti per percorsi di influenza e trasformazione spirituale, portano dentro di sé verità che devono essere custodite con la massima discrezione. Questi individui, scelti da forze che trascendono l'ordinario, sono incaricati di missioni che possono sembrare più finzione che realtà. Vedono oltre il velo che copre gli occhi della maggior parte delle persone, comprendendo strati di esistenza che rimangono nascosti al mondo generale. Ma perché mantenere segreti? Perché mantenere il silenzio su rivelazioni che potrebbero essere condivise? La risposta sta nel proteggere il potere che questi segreti conferiscono. In un mondo dove ogni pensiero e movimento è spesso trasmesso e analizzato, il silenzio su certe verità esoteriche serve come armatura contro manipolazioni e fraintendimenti. Preserva l'integrità della missione del prescelto e mantiene il loro potere intatto, libero da diluizioni da parte di coloro che non sono pronti o non sono in grado di comprenderne il vero significato. La storia di Giuseppe il sognatore ci offre una lezione preziosa sui pericoli della rivelazione prematura. Condividendo i suoi sogni profetici con i suoi fratelli, provocò involontariamente invidia e ostilità, con il risultato di generare tradimento e sofferenza. Questo episodio biblico illustra vividamente come anche le persone a noi vicine possono reagire in modi che mettono a rischio la nostra sicurezza e il nostro scopo quando non sono preparate al peso di tali rivelazioni. Pertanto, se ti senti parte di questo gruppo unico, guarda questo video fino alla fine come guida per navigare il delicato equilibrio tra la profonda conoscenza spirituale e la necessità di proteggere queste verità. Il potere dei prescelti risiede non solo in ciò che possono fare, ma anche in ciò che scelgono di non rivelare. Custodisci le tue intenzioni e i tuoi obiettivi. Ti sei mai trovato a condividere i tuoi sogni più ambiziosi con qualcuno solo per poi chiederti se sei stato avventato? Per i prescelti, la prudenza nel mantenere segrete le loro intenzioni e obiettivi non è solo una precauzione, ma una strategia essenziale per garantire che i loro piani più sacri abbiano lo spazio e il silenzio necessari per fiorire senza interferenze esterne. Rivelando le tue aspirazioni prima che siano saldamente radicate, rischi di esporle a dubbi e critiche che possono minare la tua energia e la tua concentrazione. Considera il potere del silenzio come una forma di protezione e rafforzamento dei tuoi obiettivi più significativi. La storia biblica di Giuseppe illustra dolorosamente le potenziali conseguenze della rivelazione prematura di ciò che è sacro. I suoi sogni, sebbene destinati a diventare realtà, attirarono invidia e ostilità prima che avesse l'opportunità di fortificarli con preparazione e maturità. Il silenzio sui tuoi piani futuri funziona come un giardino recintato dove le tue intenzioni possono germogliare e crescere lontano dagli occhi del mondo. Questo rifugio protetto ti permette di affinare i tuoi obiettivi, aggiustare le tue strategie e rafforzare la tua determinazione senza la pressione dei giudizi esterni. È un atto di autoprotezione che assicura che le radici dei tuoi progetti siano profonde e robuste, capaci di resistere alle tempeste e alla siccità. Questa segretezza non è solo una barriera contro le influenze negative, è anche una camera di incubazione per l'autenticità e la fiducia in se stessi. In un mondo dove la sovraesposizione è comune, scegliere consapevolmente cosa rivelare e cosa mantenere è un esercizio di saggezza e potere personale. Mantenendo le tue intenzioni vicine al tuo nucleo, le conservi pure e allineate con la tua vera essenza e chiamata. Quindi, quando senti la tentazione di rivelare i tuoi piani, ricorda che ogni sogno condiviso prima del suo tempo è come un seme gettato al vento, soggetto a essere portato via prima di poter attecchire. Custodisci i tuoi sogni come tesori nascosti, permettendo loro di manifestarsi in forza e verità prima di portarli alla luce del mondo. Questa cura e pazienza ti prepareranno per il momento giusto in cui i tuoi piani possono emergere non solo come idee, ma come forze inarrestabili. Mantieni segrete le tue esperienze mistiche. Hai mai vissuto momenti di profonda connessione spirituale o rivelazioni mistiche che sembrano trascendere la comprensione comune? Per i prescelti, tali esperienze sono finestre sul divino, preziose intuizioni che devono essere custodite con grande cura. Rivelare queste esperienze può non solo distorcerne la sacralità, ma anche esporle a fraintendimenti o giudizi prematuri. Queste esperienze, che siano visioni, incontri spirituali o epifanie profonde, sono intimamente personali e spesso cariche di significati allineati specificamente al tuo viaggio e alla tua missione. Condividerle indiscriminatamente può aprire porte a fraintendimenti, o addirittura incredulità, diluendo il potere e la purezza di questi momenti sacri. Il mistico ha un ruolo unico, navigando tra il visto e l'invisibile, e le loro esperienze sono pezzi cruciali in questo complesso arazzo di realtà. Immagina, per esempio, un incontro con un angelo o una chiara premonizione durante la preghiera. Questi momenti sono progettati per rafforzare la tua fede e dirigere le tue azioni, non per servire come argomenti di discussione casuale. Pertanto, quando scegli di condividere tali esperienze, fallo con coloro che comprendono e rispettano il loro valore spirituale, persone che supporteranno e aiuteranno a interpretare correttamente queste rivelazioni nel contesto della tua missione. Questa scelta discernente non solo protegge l'integrità delle tue esperienze mistiche, ma assicura anche che continuino a servire come bussole affidabili nel tuo cammino spirituale, non diffondere la tua vita personale e la tua ricchezza. Per i prescelti, la discrezione è fondamentale non solo come misura di sicurezza, ma anche come modo per mantenere l'integrità della loro missione spirituale. Mantenere un'aura di mistero intorno alla tua vita personale e alla tua ricchezza aiuta a preservare la tua libertà e protegge contro le vulnerabilità che l'esposizione può portare. L'ostentazione può attirare non solo invidia e risentimento, ma anche mettere te e i tuoi cari a rischio di sfruttamento. Inoltre, quando la tua missione è spirituale e trascendentale per natura, concentrarsi sulla sostanza piuttosto che sull'apparenza rafforza l'autenticità delle tue intenzioni e la purezza del tuo scopo. In un mondo dove l'apparenza spesso prevale sull'essenza, scegliere la modestia e il mistero è un atto di resistenza e saggezza. Considera come puoi coltivare una vita che valorizza la ricchezza spirituale rispetto alla ricchezza materiale, dove la semplicità diventa il velo che nasconde e protegge il vero tesoro di saggezza e illuminazione che porti. Questa segretezza non riguarda il privarsi, ma lo scegliere cosa mettere in evidenza e cosa mantenere nascosto, bilanciando la visibilità con la protezione. Gestendo la tua vita personale e la tua ricchezza con prudenza, non solo assicuri la tua sicurezza, ma rimani anche fedele ai valori che ritieni più cari. Questo approccio calcolato ti permette di continuare il tuo viaggio con minime distrazioni e massima efficacia, assicurando che le energie che coltivi siano dirette verso una crescita e un impatto veramente significativi. Non rivelare le tue guide spirituali e le connessioni divine. Per i prescelti, queste relazioni sono più che semplici supporti nel loro cammino spirituale. Sono pilastri fondamentali che richiedono rispetto e rigorosa protezione. Divulgare dettagli sulle tue guide spirituali o sui modi in cui ti connetti con il divino può non solo banalizzare queste relazioni sacre, ma anche esporle a fraintendimenti o manipolazioni. Queste connessioni sono profondamente personali e spesso incomunicabili, radicate in esperienze che trascendono il linguaggio comune e la comprensione superficiale. Scegliendo di mantenere segreti i dettagli delle tue interazioni con il divino, onori la sacralità di questi incontri e preservi l'integrità della tua pratica spirituale. Immagina la forza di queste connessioni come fili di luce che possono essere pienamente visti e compresi solo dal tuo stesso spirito. Mantenendo questi fili protetti dalle influenze esterne, assicuri che la tua guida rimanga chiara e incontaminata dalle interpretazioni esterne. Questo non è solo una questione di privacy, ma un atto di riverenza per gli elementi più sacri del tuo cammino spirituale. Riflettendo sulle tue pratiche spirituali, considera come puoi proteggere e rafforzare queste connessioni, che si tratti di meditazione, preghiera o altre pratiche sacre. La cura con cui gestisci queste interazioni riflette il rispetto e la serietà con cui affronti la tua evoluzione spirituale. Pertanto, quando fronteggi le tue relazioni spirituali, fallo con la saggezza che non tutti i tesori devono essere mostrati e alcuni segreti sono mantenuti non per paura, ma per profondo rispetto per il divino. Questo è un invito a riflettere sulla natura e lo scopo delle tue connessioni spirituali e a garantire che rimangano pure e potenti. Mantieni le tue debolezze e sfide per te stesso. Hai notato come la vulnerabilità possa essere sia una forza che una debolezza? Per i prescelti, comprendere profondamente i propri limiti e sfide è cruciale, ma rivelarli al mondo può aprire porte per avversari o forze negative che possono sfruttare queste vulnerabilità. Mantenere queste informazioni protette è una strategia di tutela personale e rafforzamento. Comprendere le proprie debolezze non è un'ammissione di sconfitta, ma un atto di autoconsapevolezza che permette la trasformazione e la crescita personale. Come un guerriero che conosce ogni centimetro della propria armatura, essere consapevole dei propri difetti ti permette di fortificare queste aree e di prepararti meglio per le sfide future. Tuttavia, a differenza dell'armatura fisica, le vulnerabilità emotive e spirituali sono meglio mantenute sotto chiave, condivise solo in cerchie di assoluta fiducia. Mantenendo segrete le tue lotte interne, non solo eviti di essere un bersaglio per attacchi mirati, ma mantieni anche il controllo sul tuo stesso processo di guarigione e rafforzamento. Questo ti permette di affrontare e superare queste sfide a modo tuo, senza lo scrutinio o il giudizio degli altri che potrebbero distorcere o interrompere il tuo progresso. Pensalo come un viaggio attraverso un labirinto. Mentre navighi i sentieri tortuosi, è saggio tenere nascosta la tua mappa, poiché rivelare il tuo percorso può portare a interferenze indesiderate. Le tue debolezze, una volta conosciute, possono diventare obiettivi strategici per coloro che desiderano vederti fallire. Quindi, mentre lavori per superare le tue limitazioni, fallo con la saggezza che il vero potere non deriva solo dal trionfare sui nostri difetti, ma dal padroneggiare l'arte di proteggere il nostro cammino di crescita. Questo segreto è un invito a riflettere su come puoi navigare le tue vulnerabilità con discernimento e forza, trasformando ciò che potrebbe essere uno svantaggio in una testimonianza di resilienza e determinazione. Non condividere i tuoi rituali e le tue pratiche personali. Per i prescelti, mantenere la sacralità di queste pratiche è essenziale non solo per il rafforzamento personale, ma anche come modo per preservare l'efficacia e la purezza di questi momenti. Condividere dettagli su specifici rituali o pratiche esoteriche può distorcerne il significato e esporli a fraintendimenti o banalizzazioni. Queste pratiche, che siano meditazioni profonde, preghiere intense o rituali di purificazione, sono profondamente personali e spesso su misura per bisogni spirituali individuali. Sono sviluppate nel corso di molti anni, forse anche una vita, e portano un potere che è unico per il tuo percorso personale. Rendendo pubblici i dettagli di questi rituali, rischi di ridurne l'impatto, trasformando un atto sacro in qualcosa di comune. Inoltre, l'efficacia di molte pratiche spirituali risiede nella loro sacralità, nel mistero che le circonda. Rivelare questi segreti non solo può diminuire il loro potere, ma anche aprire lo spazio affinché vengano fraintesi o usati in modo inappropriato da altri che non condividono la stessa base spirituale o comprensione. Continuando ad esplorare e approfondire le tue pratiche spirituali, pensa all'importanza di mantenere segreti questi aspetti del tuo viaggio. Questa cura non riguarda l'esclusione, ma la protezione dell'integrità e dell'efficacia delle pratiche che sono centrali nella tua vita spirituale. Onorando la privacy e la sacralità delle tue pratiche spirituali, non solo garantisci che rimangano potenti e pure, ma riaffermi anche il tuo impegno verso un percorso che è veramente tuo. Questo è un atto di rispetto non solo per le tue credenze e pratiche, ma anche per il Divino che cerca di connettersi con te attraverso di esse. Non rivelare le tue visioni e profezie future Condividere visioni e profezie prematuramente può non solo provocare fraintendimenti e paure inutili, ma anche compromettere l'ordine naturale del tempo divino. Queste visioni sono spesso pezzi di un puzzle molto più grande, destinati a essere compresi e rivelati in momenti specifici e in modi che sono allineati con i flussi divini dell'universo. Rivelare queste informazioni in anticipo può alterare il corso degli eventi in modi che potrebbero non allinearsi con l'intenzione originale. Inoltre, la natura sacra di queste visioni e profezie richiede che vengano trattate con la massima riverenza e responsabilità. Come custode di queste rivelazioni è tuo dovere proteggere l'integrità e il tempismo della loro divulgazione. Questo comporta discernimento per sapere quando, come e a chi rivelare tali intuizioni, assicurando che la loro trasmissione sia fatta in modo da massimizzare il loro beneficio e minimizzare il rischio di fraintendimenti o allarmismi. L'esempio di Daniele, che sigillò le parole di certe visioni fino al momento stabilito, è un potente promemoria che non tutte le rivelazioni devono essere condivise immediatamente. La saggezza nel preservare questi segreti fino al momento giusto è un aspetto cruciale della tua missione e del tuo ruolo come prescelto. È necessario riflettere attentamente sulle tue visioni e profezie, considerare le implicazioni della loro condivisione, così come valutare non solo la verità e l'urgenza dell'informazione ma anche l'impatto della sua divulgazione nel contesto più ampio della comunità e del mondo in generale. Questo rispetto per il potere delle tue rivelazioni e il tempismo divino non solo proteggerà il sacro ma assicurerà anche che il tuo ruolo come messaggero sia adempiuto con onore e integrità. Mantieni nascosta la tua connessione con altre dimensioni. Per i prescelti la realtà si estende ben oltre le dimensioni fisiche che conosciamo. Hanno la capacità di accedere a regni di esistenza che sfidano la nostra comprensione convenzionale. Questo ottavo segreto svela una delle abilità più straordinarie e misteriose dei prescelti. La capacità di connettersi con altre dimensioni. Questi viaggi interdimensionali non sono semplici voli di fantasia ma interazioni profonde e trasformative con regni che esistono parallelamente al nostro. Attraverso stati di coscienza alterati, meditazione avanzata o persino interventi divini i prescelti esplorano territori che offrono profonde intuizioni sulle leggi universali e sui misteri della creazione. queste esperienze sono intensamente personali e spesso cariche di messaggi e insegnamenti che hanno il potere di influenzare non solo l'individuo ma anche il corso dell'umanità. Tuttavia rivelare queste esperienze comporta rischi significativi. La natura straordinaria di queste connessioni può essere facilmente fraintesa o screditata da coloro che sono fermamente ancorati nel mondo materiale. Ancora più pericolosamente le informazioni su come accedere a queste dimensioni possono finire nelle mani sbagliate portando a tentativi di sfruttare o manipolare questi regni sacri per scopi egoistici o distruttivi. Per questi motivi è imperativo che i prescelti custodiscano rigorosamente i segreti delle loro connessioni interdimensionali. Devono trattare questa conoscenza come sacra rivelandola solo in circostanze estremamente controllate e solo a coloro che sono altrettanto dedicati a preservare l'equilibrio e l'armonia dell'universo. Questa cautela non è solo una protezione per l'individuo ma una salvaguardia per mantenere l'integrità delle dimensioni accessibili. Proteggere queste connessioni è anche una questione di rispetto per il sacro. ogni incursione in un'altra dimensione è un privilegio straordinario carico di responsabilità spirituale. Così mantenendo il segreto i prescelti assicurano che la purezza e lo scopo di questi incontri interdimensionali siano preservati permettendo che le lezioni e le energie ricevute siano utilizzate per il bene maggiore in armonia con i disegni divini. pertanto se ti trovi tra i rari che hanno vissuto tali meraviglie considera questo segreto un promemoria della serietà della tua custodia. Tratta le tue esperienze interdimensionali con il massimo grado di riverenza e prudenza sapendo che possiedi la conoscenza di mondi che la maggior parte può solo sognare di intravedere. Ricorda che questi segreti quando custoditi ti permettono di navigare il mondo con una chiarezza di scopo e una forza che sono invisibili ma palpabilmente potenti. Sono l'armatura spirituale che difende dalle distrazioni e dai pericoli del mondo esterno assicurando che la tua energia e concentrazione rimangano allineate con le tue missioni più alte. Ti incoraggio a questo punto come possibile prescelto a riflettere profondamente sul potere di questi segreti nella tua vita. Rifletti su come puoi continuare a proteggerli rafforzando il tuo cammino e preservando la sacralità della tua chiamata. Rimani vigile saggio e determinato. Il cammino dei prescelti è pieno di sfide ma anche di ricompense profonde e di impatto. Il tuo impegno nel mantenere questi segreti non è solo un atto di autoprotezione è una testimonianza della tua dedizione a uno scopo superiore che trascende il personale e raggiunge l'universale. Se questo video ha risuonato con te lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i nostri prossimi contenuti di valore. Voglio adesso ringraziarvi tutti per i costanti e meravigliosi commenti che ci incoraggiano a continuare e ci aiutano a migliorare i nostri video e ad offrire il meglio per voi. Con questo contenuto spero abbiate compreso il percorso di grandezza predestinato per i prescelti ed è per questo motivo che vi auguro tutta l'energia positiva necessaria per arrivare alla meta. A presto!